A Teramo, a distanza di qualche giorno dalla sentenza del TAR che ha condannato il comune a risarcire quasi 700.000 euro al negozio sottosopra, il negozio di abbigliamento che occupa i locali del Cineteatro dove dovrebbero essere avviati i lavori di restyling dell'intera struttura, sono arrivate le dichiarazioni del sindaco D'Alberto. Il primo cittadino ha annunciato che l'iter per l'avvio della riqualificazione del teatro comunale andrà avanti. Ad oggi manca solo la progettazione esecutiva. Ci siamo presi qualche giorno per analizzarla con gli uffici legali che hanno confermato assolutamente la bontà e la verità degli atti che hanno portato poi alla sottoscrizione del contratto per la riqualificazione del teatro, il recupero del teatro comunale, la restituzione nella sua pienezza alla città con i fondi che poi sono diventati PNRR. Quindi va avanti l'opera, si sta portando a compimento come è previsto la progettazione esecutiva da parte della ditta. Questo tempo ci servirà anche per affrontare la questione del rapporto con il privato anche a seguito di questa sentenza, una sentenza che ha previsto un riconoscimento di un risarcimento danni per l'importo che conoscete, molto più basso rispetto a quello che era stato richiesto in sede di giudizio. Ma credo che questa sia la fase che debba portare ad un confronto e portare avanti un confronto che c'è sempre stato. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto illegittima la proroga della concessione concessa al negozio fino al 2027, avvenuta nel 2022, quando l'Enter ha già conoscenza che la riqualificazione del teatro comunale avrebbe comportato lo sfratto del negozio. Tuttavia il Comune insiste sul fatto che al momento della proroga aveva certezza solo dei fondi a disposizione per l'intervento. Per questo motivo d'Alberto ha annunciato che insieme ai legali e agli uffici stanno valutando attentamente la sentenza per valutare l'eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Gli estremi per impugnare, per fare ricorso, sembrerebbero esserci da una prima lettura, ma ci sono e ci saranno anche perché ci sono alcune incongruenze che emergono già da una prima lettura dal punto di vista giuridico, ripeto, una contestazione solo e esclusivamente sull'aspetto giuridico, però chiaramente la scelta anche processuale sarà legata alla trattativa, all'intesa, alla collaborazione che vogliamo trovare assolutamente col privato nell'interesse di tutti.